è iniziata la settimana dedicata al lungo addio di Raymond Chandler, sigla. Mi sono reso conto che il video che ho girato quando ero in trasferta sul il lungo addio di Raymond Chandler nella nuova versione ad Elphi tradotta da Gianni Pannofino era veramente un video troppo lungo per essere presentato tutto insieme. Durava circa un'ora e mezzo, siamo lì insomma. E allora ho pensato di dividerlo, di tagliarlo in diversi blocchi che vi presenterò ogni giorno della settimana fino ad arrivare al sabato dove ovviamente ci sarà il piatto forte che sarà la recensione, l'analisi come volete voi, del libro del capolavoro di Chandler. Quindi per ogni giorno della settimana vi presenterò un video che si occupa di un aspetto specifico di questo libro. Un video sarà dedicato a una carrellata di immagini con un testo scritto per farvi sapere un po' di cosa si parla, forse ci aggiungerò un commento vocale, ancora non ho deciso, dove vi presenterò alcuni oggetti, alcuni automobili, alcuni cocktail, alcune cose che erano tipiche degli anni 50 che vengono nominate da Chandler nel suo romanzo per farvi avere un'idea, per farvi capire come Chandler riesce a dare il senso di quello che lui stava vivendo con gli oggetti che vengono nominati, con alcuni personaggi, con alcuni nomi di persone famose all'epoca o comunque che magari oggi sono dei nomi un po' dimenticati ma che avevano una loro importanza. Quindi una curiosità. In un secondo video vi parlerò sicuramente del lungo addio di Robert Altman, un capolavoro della nuova Hollywood del neo-noir. Chiaramente non sarà una recensione di tipo cinematografico, per quello c'è il frusciante e non mi sogno neanche di fare quel tipo di lavoro lì. Però vi dirò quello che penso io su questo film in rapporto, facendo un parallelismo con il libro e dicendovi quello che penso io di questo film, così come libero pensatore, diciamo, non come esperto di cinema per carità. Un'altra caratteristica dello scrivere di Chandler è quella di avere delle immagini, delle metafore, dei parallelismi molto sagaci, molto efficaci e molto forti, per cui alcune frasi, alcuni stralci presi dai libri di Chandler possono essere a tutti gli effetti considerati come degli aforismi, o meglio, quelle quotes, come si dice in inglese, quelle citazioni che piacciono tanto oggi e che effettivamente anch'io mi rendo conto guardando i vecchi libri che ho letto di Chandler che le sottolineavo perché sono veramente molto belle. Ecco, vi farò una rapida carrellata di alcune citazioni, di alcuni aforismi tratti da questo bellissimo romanzo. E ovviamente non può mancare una descrizione di uno dei personaggi più caratteristici, più pittoreschi, più particolari di tutto il romanzo, ovvero quel Earl, che è il braccio destro allo scagnozzo del dottor Weringer, che è un cowboy. E in questo video vi farò vedere come Chandler descrive questo cowboy in un modo del tutto magistrale e questo video è pensato proprio per voi che scrivete, che magari vi impegnate a cercare un buon modo per descrivere un personaggio. Ecco, c'è una playlist sul canale, cercatela, dove proprio si chiama Descrivere un personaggio e ci sarà anche questo video sulla descrizione di Earl. Siccome è una cosa a cui tengo molto questo dello descrivere e del saper scrivere, cerco ogni tanto di darvi dei consigli se siete scrittori, anche se siete dei lettori, per farvi apprezzare maggiormente quello che leggete. E un altro passo che ho trovato molto ben fatto è la descrizione che Chandler fa di un silenzio. E infatti a proprio la descrizione del silenzio ho dedicato un altro piccolo, molto breve video. Infine, un video, sempre nell'ottica dello scrivere o del lettore consapevole, l'ultimo video separato, l'ultimo mini video per così dire, sarà dedicato all'aggettivazione come Chandler usa gli aggettivi. Vi ho già fatto un video su questo tema dove ho confrontato Stephen King, Joseph Conrad e George Stimenon. Lo trovate in descrizione, magari vi metto anche il link qua sopra. È un video che è abbastanza poco visto, è un video un po' tecnico, però se siete dei lettori penso che vi possa dare uno strumento in più per valutare quello che leggete o come scrittori per decidere qual è la vostra strada, appunto, del vostro stile. E in questo video vi parlerò di come Chandler utilizza l'aggettivazione. È stata una cosa veramente sorprendente aver letto questa cosa e se mi trovato di fronte a questo aspetto. Ma comunque, questi sono i sei video separati, sono i video figli, diciamo così, tratti dal lungo addio, tranne quello dove vi parlo del lungo addio del film di Robert Altman che ho girato di per sé perché penso che sia una cosa che possa essere interessante, può essere un tentativo. Mi direte voi, lasciatemi qua nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi, lasciate un like se vi fa piacere, condividete, mettetemi un mi piace, lasciate un messaggio e fatemi sapere cosa ne pensate. Anche di questa nuova musica della sigla, se vi piace, secondo me è abbastanza azzeccata, ma fatemi sapere. E infine, ovviamente, il sabato, come ogni sabato, ci sarà il video principale che sarà la video recensione, o meglio la mia analisi, per così dire, perché più che una recensione è un'analisi probabilmente, senza spoiler, del lungo addio di Raymond Chandler pubblicato da Adelphi proprio quest'anno, o meglio nel 2022, edito con la traduzione di Gianni Pannofino. Bene, questo era proprio un video rapido, non vi voglio annoiare oltre, ci vediamo già oggi con il primo video.